Avevano occupato alcuni casolari abusivi e si erano allacciati abusivamente alla corrente elettrica. E' quanto hanno scoperto i carabinieri di Sansevero che hanno arrestato quattro cittadini romeni tra i 26 e i 52 anni, accusati di furto aggravato di energia elettrica. Nel corso del servizio finalizzato alla prevenzione del contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina e l'occupazione abusiva dei casolari abbandonati, i militari hanno ispezionato alcune masserie incontrate a Motta del Lupo nelle campagne di Sansevero. Durante questi controlli i carabinieri hanno scoperto i quattro romeni che vivevano in un casolare abbandonato privo dei più elementari requisiti di abitabilità. Gli stranieri inoltre avevano alcuni elettrodomestici regolarmente funzionanti. I quattro infatti si erano attaccati illegalmente ad un traliccio dell'Enel con un piccolo cavo elettrico. Una situazione di estrema pericolosità per l'incolumità dei quattro uomini così come hanno confermato gli stessi tecnici dell'Enel intervenuti sul posto.